Mediugorie, 25 dicembre 2012 a Maria. La Madonna è venuta con Gesù Bambino tra le braccia e non ha dato messaggio, ma Gesù Bambino ha iniziato a parlare e ha detto io sono la vostra pace, vivete i miei comandamenti. La Madonna e Gesù Bambino, insieme, ci hanno benedetto con il segno della croce. Nota bene il fatto straordinario è che credo sia la prima volta che Gesù parli da Mediugorie. Apparizione annuale della Madonna Iaco 25 dicembre 2012. Cari figli. Donatemi la vostra vita e abbandonatevi completamente a me perché io possa aiutarvi a comprendere il mio amore materno e l'amore del mio figlio verso di voi. Figli miei, io vi amo immensamente ed oggi, in modo particolare nel giorno della nascità del mio figlio, desidero accogliere ciascuno di voi nel mio cuore e donare le vostre vite al mio figlio. Figli miei, Gesù vi ama e vi dona la grazia di vivere nella sua misericordia, ma molti dei vostri cuori sono presi dal peccato e vivete nelle tenebre. Perciò, figli miei, non aspettate, dite no al peccato e offrite i vostri cuori al mio figlio perché soltanto così potrete vivere la misericordia di Dio ed incamminarvi sulla via della salvezza con Gesù nei vostri cuori.